E' iniziato il tempo di quaresima, tempo di grazia, di conversione, di purificazione della nostra fede e proprio nella lettura di questa prima domenica risuona il tema della fede. Compadre Ernesto della Corte veniamo accompagnati in questo inizio di conversione. Bentrovato, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a voi e soprattutto buon cammino quaresimale, visto che proprio questo tempo, come spiegavi tu, ha lo scopo di preparare il ricordo del battesimo e anche la riconciliazione col Signore. L'abbiamo appena iniziato col mercoledì delle ceneri e questo tempo chiude con la messa in cena domini del giovedì santo. Dura 40 giorni, perché 40 è un tempo biblico. Gli anni ogni giorno indicano un intervento forte del Signore. Gesù lo vedremo proprio oggi, ha trascorso 40 giorni nel deserto. Mosè, 40 giorni sul Monte Sinai, 40 anni da periclinazione nel deserto. La quaresima io vorrei soprattutto dire ai nostri amici e alle nostre amiche, è un tempo favorevole, è un tempo di grazia, perché ognuno di noi riscopre e approfondisca l'autentico discepolo di Cristo che deve essere il cristiano. E la conversione è un dono che ci viene fatto, non è uno sforzo umano. Non dobbiamo fare come il monaco Pelaggio che poi è stato condannato. Noi non possiamo salvarci da soli, ma è la grazia che ci viene data, questa grande spiritualità che è presenza dello spirito dentro di noi. Ecco perché io non accentuerei subito il digiuno. Il digiuno serve come astenzione al proprio peccato, ma ciò che è importante è l'ascolto prolungato della parola di Dio, l'esame di coscienza da fare ogni giorno, l'aprirsi alla parola della salvezza. Perché la quaresima, a me piace questa idea proprio liturgica, è una grande convocazione di tutta la Chiesa. Dobbiamo ritornare a pregare, lo direbbe così il nostro grande Padre Pio, la preghiera. Dobbiamo pregare per la Chiesa, per il mondo, per la pace e offrire qualcosa di noi, anche piccoli gesti, perché la penitenza ha come effetto proprio la riconciliazione non solo con Dio, ma con i fratelli. Dobbiamo impegnarci come fa una mamma, un papà che si toglie il pane di bocca per gli altri, la condivisione. Allora, le tre grandi pratiche, digiuno, preghiera e amore, diventano qualcosa di significativo, perché il digiuno è il segno esterno di una conversione interiore. È inutile astenersi dai cibi e poi non ci si astiere dal peccato. La preghiera, che è soprattutto fondamentale, è lasciare spazio a Dio, non accaparrarcelo il Signore con tante preghiere e tante parole che non servono a nulla, perché non c'è conversione a Dio se poi non ci convertiamo all'amore fraterno. Quindi vivere un più forte impegno di carità. Si tratta di seguire Gesù in questo cammino quaresimale con un cambiamento di mentalità. Quindi ragionare in un modo diverso, vivere in un modo diverso. Seguendo Gesù impariamo a umanizzarci. Oggi, in questa prima domenica di Quarissima, noi celebriamo il capitolo 4 di Luca, dove si parla della lotta che Gesù ha sostenuto contro le tentazioni del diavolo. Ce lo dice proprio il testo. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Quindi lo Spirito aiuta Gesù a entrare nel deserto. Colui che nel battesimo è stato chiamato il figlio amato dal Padre, non si è esonerato dalla prova. È un uomo come noi, eccetto il peccato. Ha ricevuto questa grande rivelazione. E quindi Gesù sa di essere il figlio di Dio. Il Padre lo ha richiamato a questa grande dignità. Lui è il figlio amato e ora lo Spirito lo conduce nel deserto. Il deserto, l'eremos, è un luogo di solitudine, di preghiera, di riduzione all'essenziale. Il deserto, veramente un goccio d'acqua, vale più di oro, vale più dei diamanti, vale più delle ricchezze del mondo. È il luogo dell'essenzialità. Noi dobbiamo riscoprire l'essenzialità. Nel deserto, Israele, nell'Antico Testamento, ha fallito la prova, ha mormorato contro Dio, non si è fidato. E invece Gesù si confronta con l'esperienza del diavolo. Accetta di essere messo alla prova in ogni cosa, dice la lettera agli ebrei, in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. È il capitolo 4 della lettera agli ebrei al versetto 15. Quindi Gesù è stato realmente tentato, cioè è stato posto di fronte alla condizione di vivere per sé stesso, uscendo dalla comunione con il padre e con i fratelli. E questi 40 giorni sono decisivi. Che cosa sono le tentazioni? Il tentativo da parte del diavolo, Diabolos, colui che divide Satanni, il tentatore, di staccare il figlio dal padre, di renderci autonomi, cioè il nostro io diventa il centro del mondo e del creato. E che cosa gli chiede il demonio? Matteo usa le stesse tentazioni di Luca, ma sono in ordine inverso. Luca preferisce chiudere con Gerusalemme, perché Gesù a Gerusalemme cambierà la presenza del santuario, non più fatto nelle mani dell'uomo, ma il suo corpo. Si parte dal mutare le pietre in pane, poi possedere i regni della terra, e l'ultimo, quello miracolistico, gettarsi dal punto più alto del tempio per essere poi accolto dalle mani degli angeli. Che vuole dire qui il demonio, il diavolo? Vuole dividere, vuole che Gesù prenda le distanze dal padre, intendendo la propria identità di figli non come obbedienza, ma in termini di potere assoluto, insinua cioè in Gesù di usare il suo essere figlio di Dio per sottrarsi anche alla condizione umana, che Gesù invece ha scelto. E poi, vedete, ci sono due diversi approcci da guardare. Da una parte quello che è il progetto del padre, la missione di salvezza fatta da Gesù. Dall'altra parte il demonio, come al solito, in tutti i secoli, ha sempre ispirato il potere, il potere del dominio, dell'uomo sull'uomo, della violenza, della mancanza di rispetto dell'altro. Il mondo ha questa lotta ancora oggi. Che cosa fa Gesù? Il Cristo come risponde oggi? È l'esempio davvero per noi. Innanzitutto, di fronte alla fame, non assolutizza il proprio bisogno, non addomestica la creazione per avere il nutrimento, non trasforma quella pietra in pane, non cede dunque alla tentazione del miracolo, quasi per sopprimere la fatica del lavoro, di dover coltivare la terra e averne il nutrimento, abbandonandosi alla provvidenza di Dio. E Gesù risponde sempre citando le scritture. Questo è un dato veramente splendido. Il figlio di Dio, che è la parola del padre, risponde con le scritture, citando il libro più bello, forse il manuale di spiritualità più bello del Pentateuco, il Deuteronomio. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lui è la bocca di Dio, la parola di Dio. È il libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3. La seconda tentazione, il diavolo lo porta in alto, gli mostra come in una visione tutti i regni della terra e del mondo abitato. Offre il potere e la gloria umana. E Gesù, davanti a questa offerta, di nuovo fa capire che vive la radicale obbedienza al padre. Gesù non si prostra al male, non si lascia prendere dal delirio di questo fascino perverso e diabolico del dominio che prende tanti uomini, purtroppo, anche nella Chiesa. Il delirio, il fascino perverso, diabolico, del potere, del ruolo. Una parola che è una bestemmia in bocca a un cristiano. Nessun cristiano dovrebbe parlare mai di ruolo, ma di servizio. La logica del mondo è quella del tutto e subito. Questa è perversione. È istigazione al male perché non rispetta quel limite creaturale che il padre ci ha dato, che è importante per avere un giusto rapporto con Dio e con gli uomini. E Gesù risponde ancora una volta, citando Deuteronomio al capitolo 6, al versetto 13. Ti prostrerai al Signore tuo Dio e solo Lui renderai colto. Al terzo tentativo, il demonio lo porta a Gerusalemme, sul pinnacolo, il luogo più alto del Tempio, il luogo più alto della città. Ancora una volta vuole, come dire, strapparlo alla presenza del padre. Ma soprattutto questa volta la tentazione è fatta citando addirittura un salmo. Il demonio cite il salmo 91, i versetti 11-12. Conosce la scrittura, non la vive. E invita Gesù al miracolismo. Lasciati cadere nel vuoto. Perché il salmo dice che gli angeli poi vengono a prenderti. Guardate, è il delirio dell'istigazione del potere che non serve a nulla. In questo modo vuole suggerire il demonio. Strappi consenso alla gente. È un miracolo, ti abbatteranno le mani. Pensando che i miracoli generano la fede. No, non è così. È la fede che ci fa vedere la pienezza della vita e i miracoli dell'ordinario. Ecco perché Gesù ribatte per la terza volta col Deuteronomio 6-16. Non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Ecco che Gesù non si abbandona al sensazionalismo, ma perviene la vittoria sul male obbedendo alla parola del Signore. E queste tre tentazioni, il pane, il potere e il miracolismo, sono tre logiche che noi dobbiamo superare sull'esempio di Gesù, nell'umiltà, nella preghiera, soprattutto nell'abbandono fiducioso, a colui che tutto ci assicura se viviamo continuamente la logica della fede, che è logica di relazione. E sono le tentazioni che abbiamo noi uomini tutti i giorni e a volte, anzi troppo spesso, poi ci caschiamo. Soprattutto noi che pensiamo di essere credenti. C'è un testo di Matteo nel discorso della montagna che dice non chiunque dice Signore, Signore. C'è gente che ha sempre Dio sulla bocca, pensa di aver fatto miracoli nel nome di Dio, di aver scacciato i demoni nel nome di Dio. Potrebbero sentirsi rispondere non ti ho mai conosciuto. Perché? Perché non abbiamo fatto ciò che vuole Dio. Ecco perché in Luca c'è un modello, Anna Maria, che anche durante questa quaresima io vorrei offrire ai nostri telespettatori. E cioè il modello di Maria e di Marta. Non solo Maria, non solo Marta. Maria rappresenta la preghiera, l'ascolto. Ma se all'ascolto, dice Papa Francesco, l'ha detto proprio due settimane fa, al mercoledì delle udienze, se poi tu dici una cosa e non la fai, preghi Dio ma non lo vivi, a che senso ha? E allora Marta rappresenta la logica dell'attuazione. C'è un cammino da fare. Parti da Maria dall'ascolto della volontà di Dio. Arriva a Marta, cioè a vivere. Perché questo itinerario è l'itinerario della preghiera. Non solo Maria, non solo Marta, ma partendo da Maria arriviamo a Marta. partendo dall'ascolto della parola, noi la dobbiamo realizzare. Per non far fare brutta figura a Dio. Questo diceva anche il Papa è sia santificato il tuo nome. Non facciamo fare brutta figura al Signore. La Chiesa deve risplendere nel mondo come una fiaccola. Paolo ha un'immagine. Tenete alta la parola di Dio. L'espressione nel testo greco e peco significa proprio tieni come una torcia in alto. Il Vangelo è luce per il mondo. Ma se non lo viviamo gli altri non se ne accorgeranno. Bellissimo questo invito. Grazie Padre Ernesto. Hai riportato anche per chi lo volesse. Ecco, lo diciamo chiaramente. Ci sei stato di grande aiuto anche dopo l'udienza di Papa Francesco a TV2000, al nostro fratello maggiore. Quindi se volete riascoltare il suo commento potete insomma cercarlo. Padre Ernesto è preziosissimo e richiesto da tutti. Grazie. Io ringrazio sia Padre Pio che da anni mi permette di fare questa catechesi. Vorrei salutare Gennaro Ferrara e tutta l'equip del diario di Papa Francesco che è molto seguita, devo dire. Perché il Magistero del Papa è davvero una luce costante per la nostra vita. E quindi fra i nostri due servizi televisivi e radiofonici direi che non c'è concorrenza ma c'è sinergia perché entrambi vogliamo rispondere a un servizio. Portare il Vangelo nelle case perché sia luce al nostro cammino. E così deve essere. Noi siamo orgogliosi di averti qui su Padre Pio TV. Grazie. In conversazioni bibliche ci ritroviamo la prossima settimana. Buona Quaresima e buona Pasqua della settimana. A te. Shalom. Shalom. Noi siamo orgogliosi di averti qui